Domenica 6 marzo si è svolta l'attesissima rampegata di Pezzoro, gara di sci alpinismo inserita nel calendario provinciale della FISI di Brescia, aperta anche alle categorie giovanili. Si tratta di un traguardo molto importante per lo Sci-Club Pezzoro, che ha organizzato la bella e faticosa manifestazione per onorare anche i 70 anni di attività del Sodalizio, che ha sempre promosso questa specialità degli sport ivernali tra le più belle, dure e faticose. La gara si è svolta in uno scenario semplicemente straordinario del Guglielmo innevato dopo la grande nevicata dei giorni precedenti, i boschi di faggi e le betai resi ancora più magici dalla neve e il solenne monumento al Redentore, ancora più affascinante nel bianco accecante della neve e del sole. Un plauso particolare allo Sci-Club Pezzoro e dal Comitato Provinciale FISI di Brescia per l'iniziativa dell'ospitalità gratuita al rifugio Cai Pontonia per gli under 17 provenienti dalle vicine province, dalla Valtellina e da Bergamo. 150 in tutto gli iscritti alla rampegata del settantesimo. Tra essi, per il secondo anno consecutivo, la gioia di avere le categorie giovanili, alle quali fanno da battipista Senior e Master, i cui percorso si è snodato su un dislivello in salita di 1.167 metri. Per gli under 17 sono stati predisposti ulteriori tre differenti percorsi suddivisi per categorie, Juniors maschile con un dislivello in salita di 835 metri, Cadetti maschile e femminile e Juniors femminile con un dislivello in salita di 574 metri e infine un percorso non agonistico per la categoria promozionale degli under 14. Abbiamo preso questa occasione per far vedere che anche a Brescia si può realizzare questo sport e speriamo che in un futuro di avere tanti ragazzi come abbiamo visto partecipare a questa manifestazione. Vogliamo ringraziare la federazione che è il Comitato Provinciale di Brescia che ci supporta nella promozione dello sport giovanile e dello scialpinismo nella nostra provincia. Ringraziamo tutte quelle persone che ci hanno aiutato in questi giorni per far sì che oggi potesse essere un successo la rampegada del settantesimo anniversario della fondazione dello sci club. Le abbondanti precipitazioni nevose della giornata di sabato 5 marzo hanno portato gli organizzatori a modificare il percorso dei Senior e Master per la sicurezza e l'incolumità degli atleti e nonostante gli sforzi dei tracciatori che già dalle prime ore dell'alba ripercorrevano tutti i tracciati di gara cancellati da 40 cm di neve fresca, è stato necessario cancellare la discesa dal Redentore verso le maghe del Guglielmo e una salita alla vetta stessa del Guglielmo. Il settantesimo compleanno dello sci club a Pezzoro ha visto spuntare sulle pendici del Monte Guglielmo sei ragazzi under 14 e due cadetti, frutto del lavoro svolto negli ultimi tre anni dal nuovo direttivo della società per promuovere questo sport che, come sta accadendo a Pezzoro, tra i giovani sta portando i suoi frutti.